insomma ogni anno vi racconto quella storia quella parabola ogni anno la racconto la racconto per anni per altri tanti anni è del re che si trova nella hamelech basade che il re si trova nel nei campi e la storia fa così ovviamente una parabola ma è molto molto profonda che c'era questo c'è questo re che tutto l'anno lui si trova nel suo palazzo reale e sapete il re non va a contatto con ogni persona e se qualcuno per caso vuole parlare con re chiedere qualcosa dove passare dei permessi una trafila e di avere veramente una ragione ben valida per disturbare re però alla fine forse se riuscirai a incontrare il re per pochi istanti però di norma il re è chiuso nel suo castello nessuno può avvicinarlo e così via lo stesso re che tutto l'anno è non si fa vedere da tutti decide un mese all'anno di uscire dal suo dalla sua casa reale dal trono da dove si nasconde di uscire e andare nei campi a sedersi nei campi a passare giornate nei campi e dice chiunque vuole può venire a parlarmi e io re dice farò vedere il mio viso sorridente a tutte le persone che vengono a chiedermi questa è la parabola di Hashem nel mese di Elul dove noi ci troviamo adesso durante l'anno dio è come questo re certo si può fare teshuva però fa teshuva durante l'anno è un po più impegnativo e dura dice adesso che Hashem è nei campi dio dice un anno un mese all'anno io esco dai campi vuol dire vengo verso di voi apro le braccia a voi ascolto le vostre preghiere e vi mostro un viso sorridente e tutti possono venire senza chiedere permessi tra file tutti perciò lo stesso re che è quasi impossibile arrivare a lui ma il mese di Elul tutti noi possiamo avvicinarci a dio perché dio è già fuori perciò questo è il mese i maestri ci dicono che finché il re è nei campi è fuori carpe diem andiamo da lui avviciniamoci a lui parliamo chiediamo chiediamo consigli bendizioni chiediamo scusa parliamo con lui chiacchieriamo con lui confidiamoci con lui e vediamo che l'anno che sta per entrare sarà sicuramente un anno fantastico interessante notare è che la parabola dice che il re esce nei campi non c'è scritto che il re va nella sinagoga o nella yeshiva dove si studia Torah o in centri di grandi di rabbini eccetera dice no il re va nei campi che si trova nei campi i contadini la gente semplice la gente che non era erudita proprio lì dio va vuol dire che tutti noi dove ci troviamo nei campi non siamo grandi sadikim grandi studiosi siamo gente semplice dio viene quando esce dal suo palazzo non va a incontrare i rabbini o i saggi maestri a lui interessa avere a che fare con il popolo che hanno bisogno della cura e dell'amore di dio sono quelle le persone che che dio va a cercare dice voglio venire a incontrarvi proprio con voi perciò questo è il mese che possiamo veramente ribaltare tutto un anno negativo specialmente quest'anno che abbiamo avuto tante negatività lo possiamo ribaltare e trasformarlo in un anno di gioia di benessere di perdono e così via alla via chi va prima di all'inizio quando era appena sposato con rachel vi ricordate la storia che lei era la figlia dell'uomo più ricco di gerusalemme e a chi va era il pastore di questo uomo qua ma lei aveva visto le sue doti le sue potenzialità e ha voluto sposare rabbia a chi va all'inizio prima che dita serabi sappiamo che a chi va non sapeva neanche leggere e scrivere niente e lei racher ha detto io vedo in te delle grandi doti ti sposo si prometti che andrà a studiare torà e così via va bene quando il papà ha sentito che racher vuole sposarsi con il suo pastore gli ha diseredati loro hanno vissuto in povertà a chi va prima di diventare grande rabbia chi va è andato per tre anni a lavorare per mantenere la famiglia all'epoca non come oggi i viaggi erano diversi era tutta una situazione diversa all'epoca si facevano dei viaggi per anni per poter mantenere la famiglia che era lontani non si poteva andare a tornare come oggi a chi va decide che per mantenere la sua famiglia lui va lontano a lavorare e poi tornerà con i soldi e saranno più felici contenti passano tre anni a chi va lavora tutto il giorno arriva il giorno che dice a suo capo voglio tornare a casa mia per favore dammi quello che mi spetta perché lui non prendeva ogni mese li metteva li lasciava dal capo intanto viveva dormiva mangiava dal capo e poi con con il fatto che l'ultimo giorno aveva preso tutti i soldi dei tre anni e sarebbe tornato a casa arriva l'ultimo giorno di lavoro a chi dice al capo voglio tornare a casa fa poco sono le festività dammi il mio che voglio tornarmene a casa mia il padrone dice a chi va mi dispiace in questo istante non c'ho una moneta non c'ho soldi non ho da darti e questa persona viveva in una reggia aveva una casa ricchissima aveva mobili aveva di tutto bastava che vendesse qualcosa di casa sua per pagare il suo debito e a chi va anziché dire ma scusami con tutto quello che hai vai e vendi qualcosa dammi i miei soldi a chi va non dice niente saluta e se ne va via a mani vuote arriva a destinazione in casa sua dopo un lungo viaggio passano 1 2 3 giorni chi arriva arriva al suo capo arriva al suo capo con tante cose che soldi averi ricchezza e va e dice a chi va ecco qua il tuo compenso sono venuto a portarti tutto quello che ti spetta tre anni di lavoro ma dimmi soltanto una cosa chi va quando io quel giorno ti ho detto che non ho da darti tu cosa hai pensato di me e a chi va detto niente ho pensato che veramente non avevi in questo momento liquidità da darmi e ti ho creduto dice wow tu veramente non hai pensato male di me veramente mi hai mi hai giudicato in un modo positivo sì lo bacia sulla fronte e dice che dio ti giudichi in un modo positivo così come tu hai giudicato me in un modo positivo anche se sembrava che io stavo dicendo delle bugie ma in realtà in quel momento non avevo da darti poi sono riuscito a sbloccare qualcosa e eccoti qua tre anni del tuo lavoro qua vediamo quello che la torà ci vuole insegnare non bisogna mai giudicare una persona a scatola chiusa dalle azioni esteriori che una persona fa siamo durante la guerra questa è la seconda storia e durante la guerra c'era ovviamente povertà e c'era una famiglia ebraica che avevano il papà aveva una moneta si chiamava napoleon una moneta d'oro molto molto di valore che questa era la sua la valvola di sicurezza che lui aveva messo da qualche parte in casa e diceva se un giorno veramente avrà bisogno andrò a vendere questa moneta e potremmo vivere e potremmo vivere un giorno torna a casa nel momento della guerra della povertà eccetera eccetera e vede che questa moneta non è al suo solito posto e vede che il bambino di casa sta mangiando delle caramelle ma ma tu queste caramelle da dove ce le hai qui in casa noi non abbiamo caramelle all'epoca di povertà chi va a comprare caramelle a malapena c'era cibo e il bambino dice è ho preso la moneta che era lì sono andato e ho comprato delle caramelle cosa quella moneta valeva una cifra spropositata corre dal dal lattaio chiamiamolo con dal macollet chiamamolo come vogliamo il mini market vicino a casa e dice ma non ti vergogni rubare soldi a un bambino mio figlio stamattina è venuto qua a comprare caramelle con una moneta che posso comprare tutto il negozio intero e tu hai rubato soldi mio figlio non gli hai neanche dato il resto non è neanche detto no questa moneta da chi l'hai presa come hai fatto e hai rubato un figlio dice ma guarda che in realtà tuo figlio stamattina è venuto con una moneta da 10 cent ha comprato il pacchetto che valeva 10 cent gli erudato e basta ma non è vero non delle bugie quella fatto sta che niente la persona derubata diciamo così racconta tutta la città quello che è successo che lui gli ha rubato che lui qua ha ingannato il figlio eccetera eccetera e come ben sappiamo quando tu fai certe cose parli male di qualcuno le persone si allontanano da questa persona e nessuno andava più a comprare in questo negozio perché lui era un ladro fatto sta che molto brevemente la persona ha dovuto chiudere il negozio perché nessuno andava più a comprare da lui passano tre anni nel frattempo la guerra è finita nel frattempo il lavoro ha ripreso e così via un giorno arriva in casa una lettera a casa di questa persona qui una lettera e lui apre legge caro signore tal dei tali volevo raccontarti e c'è dentro la moneta quella famosa moneta che gli mancava praticamente questa persona qua che sta scrivendo a lui dopo tre anni dice io un giorno stavo andando per strada e ho visto tuo figlio un bambino con una moneta e ho visto che aveva un grande valore e ho pensato ma se un bambino va in giro con questa moneta sicuramente la famiglia sono ricchissimi che non avranno una moneta in più una moneta in meno sicuramente allora non cambierà la vita e in qualche modo ho ingannato tuo figlio ho dato un'altra moneta lui ha preso la mia sai un bambino si inganna velocemente e ho detto metto in salvo la mia vita perché proprio eravamo all'astrico con quei soldi abbiamo vissuto per tanto tempo e adesso che grazie a dio la guerra è finita il lavoro è ripreso voglio renderti quello che ti ho sottratto dopo tre anni questa persona qua che riceve questa lettera si accorge che in realtà i fatti non erano come lui pensava quella povera persona il lattaio non era un ladro non aveva ingannato il figlio ma nel frattempo lui con la sua bocca l'aveva messo in cattiva luce e nessuno più andava a comprare da lui perciò lui ha giudicato anziché pensare a dare beneficio del dubbio alla persona cosa ha fatto ha fatto una cosa non possiamo neanche biasimare più di tanto perché sembrava abbastanza logica che lui avessi rubato ingannato eppure vediamo che la verità non era quella e lui l'ha saputo soltanto dopo tre anni ma nel frattempo la persona aveva già perso lavoro e chissà che fine ha fatto lui la sua famiglia ecco non bisogna affrettarsi a giudicare una persona perché se tu giudichi una persona in modo affrettato senza controllare capire vedere anche dal cielo come mi spiegato all'inizio verranno a giudicarti nello stesso modo giudica positivo per evitare tu stesso di essere giudicato in un modo negativo siamo a una grande festa il padrone di casa viene davanti ai suoi ospiti tira fuori una moneta antica e dice questa moneta io l'ho ereditata da mio nonno è una moneta che vale tanti soldi ed è l'unica esempio al mondo non ce n'è e la passa agli ospiti la fa vedere tutti la guardano la vedono ma vai tanto lui si 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 vantava eccetera eccetera fatto sta che con tutti gli ospiti che c'erano ognuno vedeva eccetera eccetera la moneta a un certo punto cade si nasconde non si trova più era una moneta che valeva tantissimi soldi cosa succede lì a tavola c'erano cinque rabbini molto importanti molto rispettosi e loro hanno detto tra di loro prima che cominciano a dubitare su di noi facciamo che diciamo che tutti apriranno le proprie tasche tireranno fuori quello che hanno per vedere così non ci dicono che siamo stati noi il padrone di casa dice si si ok ci sto ci sto uno dei rabbini il più anziano dice no assolutamente non accetto non bisogna far così potete immaginare che tutte le persone hanno dubitato che questo rabbino fosse lui il ladro fatto sta che c'è un momento di un po di panico un po di non sanno cosa fare nel frattempo i camerieri che mettono a posto parecchiano sparecchiano puliscono a un certo punto uno i camerieri trova la moneta che era lì sotto il tavolo che era rotolata la caduta sotto il tavolo e va da padrone di casa ecco la tua moneta o felice contento va dal rabbino che si era opposto dice ma spiegami ma perché perché sia opposto ma non lo capisci che tutta la sala qua ha dubitato di su di te e lui fa sì certo che lo capisco e dice io purtroppo però tira fuori dalla sua tasca la stessa moneta identica come quella del padrone di casa e dice tu sei arrivato qui davanti a tutti e ha cominciato a dire questa moneta è l'unica al mondo l'unico esemplare ma in realtà io avevo la stessa moneta ma non volevo rovinarti la festa non volevo svergognarti davanti alle persone non ho detto niente che anch'io ce l'ho quando poi la tua moneta è sparita e i miei compagni hanno detto tiriamo le tasche fuori ognuno di noi io a quel punto ho detto no non ho accettato perché perché potete immaginare se vedevate la moneta mia in tasca mia sicuramente aveste veramente dubitato su di me e allora lì cosa avrei fatto per fortuna la tua moneta si è trovata e questa è la mia moneta questa è la tua perciò per far vedere che di nuovo qui succede che lui poteva facilmente nonostante che era un grande rabbino un saggio poteva facilmente essere accusato di un qualcosa che era palese che era lui il ladro ed è c'è andato proprio vicino però cosa è successo è successo che alla fine si è rivelata che la storia non era come quella che sembrava lui poteva essere accusato di essere un ladro in realtà non lo era forse è una storia vera o no non lo so ma l'insegnamento sicuramente è vero la famosa storia che tanti avete sentito sicuramente di questo bambino che riceve un orologio da papà piede su bar mitzvah va a scuola la fa vedere a tutti lo toglie a un certo punto gli sparisce l'orologio e va piange dal maestro il mio orologio è sparito allora il maestro cosa fa dice a tutti i bambini tutti andate davanti alla lavagna chiudete gli occhi e io passerò e toglierò dalle vostre tasche e vedremo chi sarà il e chi e chi dove troveremo l'orologio e qui succede il maestro va trova trova l'orologio e lo dà al bambino che era il padrone dopo 40 anni di questa storia di quando erano bambini arriva a casa del maestro di questo maestro un uomo un signore un suo allunno dice maestro ve lo dite una cosa grazie a te io ho deciso di diventare un maestro anch'io ormai sono cresciuto sono sposato e grazie a quello che tu hai fatto quel giorno lì in classe mi hai acceso l'idea di diventare un maestro perché ho visto che tu dando beneficio del dubbio dando credevi in me hai avuto fiducia in me questo mi ha fatto capire che un giorno quando sarò grande io potrò insegnare ai bambini avendo fiducia così che la fiducia che tu hai dato in me io voglio darla ai bambini il maestro dice non so di cosa tu stai parlando dice ma dai la storia di quel giorno che io avevo rubato l'orologio e tu me l'hai trovato in tasca ma eri tu ma come eri tu maestro tu mi hai tolto l'orologio di tasca e dice così il maestro quando tu quando io ho chiesto a voi di chiudere gli occhi e io sarei passato nella vostra tasca dice il maestro anch'io ho chiuso gli occhi per non umiliare il bambino per non anch'io non volevo sapere chi è il bambino che ha rubato a me interessava che l'orologio arrivasse al bambino che era il padrone guardate qua un maestro che lui stesso chiude gli occhi per non vedere chi è il colpevole questo è quello che la torace viene a dire chi sei tu per giudicare solo dio può giudicare chiudi i tuoi occhi non guardare le cose negative perché questo ti porterà a giudicare in un modo sbagliato molte volte quando noi appunto abbiamo visto che abbiamo giudicato qualcuno in un modo sbagliato molte volte abbiamo sbagliato il giudizio perché in realtà non era quella la storia non è quella c'era un qualcosa dietro che noi non conosciamo e tu puoi giudicare qualcuno in un modo sbagliato senza sapere quello che in realtà si nasconde dietro il talmud racconta questa storia che un giorno questo rabbiscio ben harania che era un grande maestro stava andando con il suo allievo passano in un posto e come un hotel o un posto e vengono ospitati dalla padroni casa ve prego venite ospitati dato da mangiare da bere così via il maestro dice all'allievo guarda che che bella accoglienza questa signora come gentile e così via il ragazzo giovane dice ma rabbi ma come ma non vedi che brutti occhi chi ha come fai a dire che è una bella una bella signora il maestro dice ma ma come ti permetti se tu pensi in questo modo a fare i tuoi se tu guardi una donna per la sua bellezza o bruttezza esteriore ti entro per te ma tu mi mischi a me io ti vengo a dire guarda che che bella accoglienza che ci sta dando questa signora e tu ti permetti di pensare che io sto dicendo questa signora se è bella o brutta occhi brutti o occhi belli ma come ti permetti a mettermi nei tuoi pensieri sconci e questo maestro qua si era molto arrabbiato con il suo alunno che l'ha messo nella sua nel suo modo di vedere anziché pensare quello che il maestro stava dicendo e si è molto arrabbiato con lui e non gli parlava più non rivolgeva la parola lo allontanava anche se molte volte questo alunno è venuto a chiedere scusa a che ha offeso il maestro che ha pensato male o quello che sia ma il maestro era duro e rigido non voleva saperne di lui il talmud racconta che questo alunno quando ha visto quanto il maestro l'allontanava era duro con lui cosa ha fatto è andato ha lasciato l'ebraismo ascoltate bene ha lasciato l'ebraismo ed è andato ad aprire posti di idolatria sapete chi era questo alunno era gesù di nazareth gesù quando era ancora era un studioso gesù sappiamo che da ragazzo uno che studiava torà ma quando il suo maestro l'ha in questo modo allontanato e non ha voluto dare i benefici del dubbio non ha voluto scusarlo ed era troppo duro con lui ha allontanato gesù e gesù ha andato a costruirsi tutto un altro mondo e tutto il cristianesimo nella storia sappiamo quante migliaia e migliaia di persone di ebrai hanno ucciso ok tutto questo perché un maestro non ha avuto l'accortezza la delicatezza di comprendere un ragazzo che ha sbagliato ma che è venuto a chiedere scusa ha giudicato una persona troppo in un modo perciò lui che ha giudicato in un modo sbagliato gesù viene a scrivere state attenti a come giudicate giudicate le persone in un modo positivo grazie a tutti